Il bello del calcio è che nulla è scritto, che Davide può battere Golia, no? Sì, sì, è capitato, però poi come nella vita esistono le eccezioni e l'eccezione si chiama Real Madrid. C'è un'eccezione a carattere cupidale che si chiama Real Madrid perché non c'è nulla da fare contro i Blancos. Non c'è veramente nulla da fare dopo un primo tempo dove il Dortmund quasi dava l'idea. No, quasi, non quasi, c'è altro che quasi, ha avuto delle occasioni importanti per portarsi in vantaggio e forse, anzi, ne abbiamo quel forse, sarebbe stato un vantaggio meritato. E qualcuno dirà, eh, magari avremmo visto un'altra partita. No, no, perché c'è un'eccezione. E se c'è una squadra che comunque non si sarebbe scomposta, che non avrebbe perso la Trebbisonda, sarebbe stato comunque Real Madrid che nella ripresa poi alza i toni, no? Alza la voce e segna con Carvacal su calcio d'angolo, no? Magari il più basso, ma anche se il più basso è sempre uno che dal punto di vista tecnico non si può discutere. Perché non c'è discussione di sorta, come non c'è discussione quando parliamo di Carlo Ancelotti. Per tanti viene visto come un, non lo so, come un uomo fortunatissimo che appunto ha un conto apertissimo con la Dea bendata. Ma stiamo parlando di uno che tra la carriera da giocatore e dall'animatore ha vinto sette volte. Cioè questo qua ha vinto sette volte. Cioè quando parli di questi numeri qua, quasi quasi mi viene il gelo, mi viene il gelo, mi viene la pelle d'ocra, ragazzi. Stiamo parlando veramente di un signore del calcio. Cioè c'è il Real Madrid, c'è il Real Madrid che con quella di questa sera è la quindicesima coppa e poi c'è Ancelotti insieme al Milan. Cioè Ancelotti sette coppe a pari del Milan. Cioè Ancelotti vale il Milan in termini di coppe. Stiamo parlando del, 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 non lo so di cosa stiamo parlando, ragazzi. Perché, perché è incredibile, ragazzi. Sì, è una roba, è una roba, è una roba, è una roba incredibile. Onestamente non c'è molto altro, non c'è altro, molto altro da aggiungere. Nella ripresa abbiamo visto qualche giocata interessante di Vinicius, quella in cui appunto si procura l'angolo che poi scaturisce il, 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 il vantaggio. Vinicius che poi la, la timbra potrebbe essere, potrebbe essere, potrebbe essere il pallone d'oro di questa, di questa annata. Forse oggi, no, discutevamo, infatti su Instagram ho anche lanciato un, un sondaggio, no? Questo che l'ho visto insieme ad Amici sta, sta partita qua alla finale. E parlavamo, ma chi è più forte oggi? Vinicius, Mbappé? Ascoltando il vostro parere, quello della community, ma può essere ovviamente anche il mio, Mbappé ha qualcosa in più, forse ha mostrato qualcosa in più, ma in questa stagione Vinicius è clamoroso, ragazzi. In questa stagione Vinicius è clamoroso e potrebbe, potrebbe vincere il pallonatore, quando poi sappiamo che comunque il pallonatore non è che è una competizione che, 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 che la realtà è certificata. Cioè, hai vinto il pallonatore, allora sì, sei più forte. Ehm, è un trofeo, è un trofeo. Eeeh, ragazzi, ragazzi, quindicesima Champions, quindicesima Champions League, cioè, i tifosi del Real, io non lo so, cosa si prova a essere un tifoso del Real? C'è qualche tifoso del Real tra, tra, cosa provate? Cioè, a stare lì, vincere un anno sì e l'anno, l'anno dopo pure. Cosa si prova? Eeeh, boh, è una roba, boh, non, francamente non, non lo so. Dall'altra, devo dire, rovescio della medaglia, mi spiace tantissimo per, per il Dortmund. Dico la verità, mi spiace, innanzitutto, proprio per, per i tifosi che ho visto, vedevo delle foto, delle immagini, dei video dove, tantissimi tifosi, quel muro giallo, ragazzi, vedi veramente una muraglia gialla, eh, dei, sono, sono, sono sostenitori veramente accaniti. Infatti, una, una bolgia pazzesca. E, e dispiace perché questa è una squadra che arriva, arriva, assolutamente arriva, perché ci sono le idee, ci sono le idee, vedete il primo tempo giocato dal Dortmund, e comunque per arrivare a giocarti una finale, ragazzi, poi possiamo parlare di fortuna, di tutto quello che pare, ma se arrivi in finale, vuol dire che, che hai lavorato bene, vuol dire che hai messo in campo determinati attributi, e di attributi ne possiamo, ne possiamo parlare, ne possiamo, e ne possiamo discutere, perché oggi è l'aggredita bene la partita, ripeto, un primo tempo, il primo tempo il Real ha tirato zero volte in porta, e il Dortmund, e il Dortmund ha avuto quelle, quelle, due occasioni clamorose con Adeyemi, e con Fulgrug, forse, forse, forse sì, forse non lo so, ma due occasioni incredibili, e quindi a sottolineare che c'è una forte, una forte ossatura, senza ombra di dubbio, e quindi c'è un lavoro incredibile, e mi dispiace per Terzic, che secondo me è un allenatore capacissimo, che l'anno scorso ha perso lo scudetto, praticamente quasi gettato all'ultima giornata, e quest'anno, quest'anno magari in campionato è andato meno bene, ma sei arrivato in finale di Champions League, e te la giochi alla grande, te la giochi alla grande, qualcuno, ripeto, potrà dire, peccato per il primo tempo, per il gol, perché magari l'avessimo sbloccata, io ripeto, il resto della mia idea, che è un mio unico pensiero, anche se il Real va sotto, vi dico che per quanto mi rivalda, per la tempra che hanno questi giocatori, c'è veramente poco da fare, contro questo Real c'è poco da fare, l'ultima di Toni Kroos, stavo per dire alzare la Coppa, l'alzare a Nascio, ma l'alzare anche lui da compagno, e quindi quale miglior modo per terminare una carriera, non lo so, anche Kroos, 5, 6, quante ne ha vinte? Cioè, la cosa che è impressionante è che fai fatica a quantificare le Champions che alcuni giocatori abbiano vinte, ce ne stanno tante, Ponti Carvacal, Kroos, Modric, ce ne stanno tanti ragazzi, ce ne stanno tanti, è una roba incredibile, e poi c'è questo connubio, tra giocatori esperti e altri giovani di estremo talento, questa è una squadra che non finirà mai, cioè non finiranno mai, non finiranno mai, è sicuro, è sicuro, e quindi poco, poco, poco altro da aggiungere. Volevo dire un'ultima cosa, di Toni Kroos, e di Ancelotti, diceva appunto, tu dici Ancelotti, forse è il momento buono, anche per Carlo, per smettere, lui ha detto smetterò al Real Madrid, no? Sarà il mio ultimo club, da un lato dici, sì, potrebbe essere il momento migliore, lasci con una coppa, ma dall'altro dici, questa è una squadra, che se la sai gesti bene, e lui è il massimo, da questo punto di vista, questa è una squadra che potrà continuare a vincere tranquillamente, quindi, io, non sto qui a dire che è l'ultima coppa, l'ultima Champions vinta da Ancelotti, non ci metterei assolutamente la mano sul fuoco. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio, questo Real è ingiocabile.